Un saluto dal Tg della mobilità, sono terminati i lavori di manutenzione in via dell'agonistica, la strada è stata riaperta, la normale circolazione del traffico e gli ultimi interventi per la segnaletica saranno completati nel corso dei prossimi giorni, senza incidere sulla viabilità. E da oggi e sino al 16 marzo, tranne il sabato e la domenica, bus al posto dei tram sulla linea 3 lungo l'intero percorso tra Trastevere e Valle Giulia e sulla linea 19 nel tratto tra Porta Maggiore e Piazza Risorgimento, la modifica è dovuta alla somma di due cantieri in programma a Viale Liegi per potature e su Viale Abicana per la pavimentazione della corsia tramviaria. Per il primo cantiere saranno deviate anche le linee di bus 52D, 53D, 53D e 360. Per il cantiere in Viale Abicana cambiano percorso 51, 85, 87, N3D e N3S. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.